secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie 50 euro spino perché voglio tutto ma ma che ci facciamo è stato lo fattere due testati io riso per il sushi fatto bene senza amido quindi non quindi non e e e e e e e e io non sono arrabbiato porca puttana ma faccio il tuo cazzo ha scamburato il coglione ma è proprio scusata non dice una parola brutta ma tutto cazzo e mo si sto arrabbiato guarda 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 non ce la fa non ce la fa non ce la fa porco dio non ce la fa scusato o così un po bruttino no e allora che digno stavolta però mi sembra più lontano rispetto al giro precedente in questo momento vicino non ce la facciano era meglio il grambacicche ma poi non puoi infilarebbe già no Ah? Rado gazz Oh? Non lo capito sta cosa, lo che fa così? Non ce la faccio? Non ce la faccio? Non ce la faccio? Ma che cazzo a scala? Ma che cazzo a scala? Come si fa? Ma che cazzo a scala? Mannaggia a Gesù Cristo Tu camion è merdo Che cazzo a scala? Porca puttana Dunque ragazzi ho provato un simulatore Oh, brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei qui Un altro gioco, cazzo È uscito oggi schianto, occhio Attenzione Questo è fuoco Neanche inizio a vedere questo Eccoci qua Eccoci qua, scusate... Dì la schiaffo Ma dove sta nello? Slash me Di Baracool No, no, no 3 Entrì Cazzo a scusate Cazzo a scusate Allora, come fare fesso il semafero? Andare su marciapiede. Fare così. Passare da qua. Easy! Ehi! Signori! Prepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe極barium! un po' di documenti un po' di documenti mi stai guardando male no non prende la struttura questo qua non prende vengo dove? come vuoi adesso non prende proprio vabbè ma non ho fatto la panchina eh? non ho fatto la panchina ma è un dimattico oggi mamma mia sai com'è? dobbiamo mangiare e dormire insieme a casa? ti posso essere antipatico ti posso essere simpatico tu non puoi avere l'affanculo puoi staccare la live puoi chiudere la live tu non puoi sci vattene non commenta tu puoi dimmi bannare si può ti pigli e ti banno ora è? subito subito vigno ma attenzione Barry stira la staccata poi diventa interno perché vigno allora va via il pilota della AS stanno dando spettacolo là davanti sono incollati girano quasi sugli stessi tempi si è preso anche il DRS che vigno ma Barry è uscito molto più veloce poi Fazzone in terza posizione li vede duellare là davanti non so perché va così non lo so non l'ha mai fatto così Fazzone in terza posizione